La bellissima e simpatica Vanessa Incontrada, famosa attrice e più famosa conduttrice televisiva, se non erro, di origine spagnole, è apparsa in copertina su Vanity Fair. In edicola dal 30 settembre, attrice che in cover si mostra completamente nuda, completamente in disabilie, mostrando un corpo tonico, procace, arrapante e intrigante. Questa è la mia opinione, sia ben chiaro. E pensate che in copertina c'è la dicitura, c'è la frase «Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu». Ovviamente la frase ha colpito e lei stessa ha colpito non solo per il suo fascino, ma anche e soprattutto per la sua angelicata bellezza. A coprire il seno soltanto una mano, che copre ovviamente entrambi i seni, ma gambe, braccia, pancia, piedi e tutto il resto, tutto scoperto. E' un'immagine di sé importante per dire stop al bullismo, contro haters, quindi odiatori, e contro il bullismo. Una scelta coraggiosa e importante, quella intrapresa da Vanessa Incontrata. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, iscrivetevi al canale, ciao Adriano, un narratore italiano.